Che faticaccia! Non smetti di fare esercizi su di me! No, è inevitabile! Come potrei fermarmi avendo un perfetto completino da palestra? Sembri uno che va in piscina o magari nello spazio. Orso Bianco conferma. Siete solo invidiosi! Ho anche le barrette energetiche! Queste danno un'energia pazzesca! Orso Bianco serve energia per capire che fare oggi. Io dipingerò tutto il giorno. Potrebbero servirmi secondo te. Continuerà, chiedi panda. Oh, 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 oh! Io scendo qui! Sapete, il successo non cade dal cielo! Dovete sudarvelo! Ah! Ok. Io mi cerco un angolo dove dipingere. Orso Bianco ha dimenticato di programmare. Troverai qualcosa da fare. Tu hai... Sì, sì, insomma, hai tante risorse. Ok, a dopo. Oh, ciao! Come va, amico? Ehi, complimenti per la borsa. E quella la mia. I palestrati come noi devono avere un certo stile, non trovi? Il maestro è all'opera! Oh, salve! Vuole che gli faccia un ritratto? No, ehm... Oh, signore! Immortaliamo il suo volto in un quadro! Wow! Che belle caricature! Come? Ciao, vuoi una caricatura? No, io devo andare. Cosa? Ma no, ci metto un minuto, aspetta! Oh, io... Ecco a voi. Ehi, salve! Volete una bella caricatura per cinque dollari? Vi disegno come personaggio dei fumetti. Buona giornata! Ah... La vorresti una caricatura per un gelato? Su... Bravo! No, 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 no.